8 giugno 1829 nasceva a Southampton il pittore John Everett Millet. Il trasferimento a Londra e dunque l'avvio dei suoi studi artistici si deve alla madre Emily, così che a 11 anni viene ammesso alla Royal Academy of Arts. Amicizia poi con William Olman Hunt e con Dante Gabriel Rossetti fu determinante perché insieme ad essi John Everett fondò nell'autunno del 1848 la celebre confraternita dei pre-Raffaelliti, così chiamata per il comune intento di rifondare l'ispirazione artistica sull'osservazione dei maestri del primo rinascimento, sia italiano che fiammingo. Non è così semplice sintetizzare la vocazione di questo gruppo che ambiva a recuperare l'ispirazione letteraria e spirituale di contro la contemporanea pittura inglese, spesso legata a ritratti, a paesaggi, a scene di genere. A questa pittura veniva contestato anche una certa fangosità del colore che i pre-Raffaelliti sostituiscono con una tavolozza brillante, garantita soprattutto dalla preparazione bianca della tela. Ecco che all'osservazione della pittura fiamminga, soprattutto di Memling e tedesca, penso soprattutto alle puntuali precisissime descrizioni di Dürer, John Everett guarda alla realtà, cercando di coniugarla alla trasfigurazione letteraria. Nascono così i capolavori, i primi capolavori del nuovo orientamento, come la bottega del falegname, noto anche come Cristo nella casa dei genitori, oggetto di una recensione negativa da parte di Charles Dickens. Gesù bambino, che si vede al centro, si è ferito accidentalmente con un chiodo e viene soccorso dalla madre, mentre un altro bambino a destra avanza con un catino pieno d'acqua. Se quest'ultimo si può interpretare come Giovanni il Battista, allora l'acqua luderebbe al battesimo, così come la ferita prefigurerebbe la crocefissione. A destra è uno dei San Giuseppe più inglesi della storia dell'arte, infatti si notano molto bene i tratti caratteristici del volto con i favoriti. Ecco che è un ambiente che trassuda dettagli, dalla definizione accuratissima degli strumenti del lavoro fino ai riccioli del legno, che sono un po' sparsi ovunque sul pavimento, frutto della lavorazione appunto del materiale. Sulla sinistra è un'apertura verso l'esterno, dove è un greggio di pecore. Ma di certo la più celebre delle opere di Millet è L'Offeglia, del 1851-52, parimenti conservata alla Tate Gallery di Londra. La sua popolarità comincia a breve distanza dalla sua esecuzione, dato che il primo proprietario del dipinto, Henry Farrer, lo presta per numerose esposizioni, una sorta di tournée dunque. Tra le sedie espositive più prestigiose ricordo il padiglione inglese della grande esposizione universale di Parigi del 1855, che è passata la storia soprattutto per avere tenuto a battesimo il pavillon di Oealisme di Gustave Courbet. La vegetazione presente nel dipinto viene eseguita nel Sarai, tra il maggio e il novembre 1851, prima dunque di inserire la protagonista, Ophelia, un personaggio dell'amleto di Shakespeare, che qui ha l'esembianza della modella, Elisabeth Siddle, detta Lizzi. Più tardi questa modella avrebbe sposato Dante Gabriel Rossetti e sarà spesso da lui dipinta. Si dice che durante le sedute a diposa per l'Ophelia si rupperò le lampade previste per riscaldare l'acqua della vasca in cui era immersa la ragazza, così che fu procurato un problema di salute, una polmonite grave. La resa dell'abito che si gonfia e appesantisce con l'acqua, trascinando il corpo sul fondo, è davvero magistrale, così come lo è quella delle piante e dei fiori, in cui senza difficoltà si riconoscono a destra la Litrum salicaria, quel fiore fucsia, e più al centro le rose canine, e poi anche la filipendula ulmaria, in inglese meadow street. Grazie. Grazie.